Beh, allora io ho un ricordo bellissimo di quando ho iniziato a appassionarmi al cinema. Intanto prima da spettatore, ovviamente, guardavo tonnellate di film. E poi credo che la forza della passione devi condividerla con qualcuno. Se tu hai degli amici della tua età che condividono con te quella passione, riesci, a mio avviso, almeno a me è successo così, a fomentarti a vicenda e riuscire a trasformare i sogni in realtà. A me è successo di avere questi due amici con cui abbiamo iniziato questo sogno, iniziamo a fare dei karaoke, dei piccoli videoclip per amici musicisti e pian piano questa cosa che per noi era un gioco fantastico, divertente, è diventata una realtà. Quindi un consiglio che mi sento di dare è di... Il cinema è sempre un lavoro di condivisione, di gruppo, di team. Se tu sin dall'inizio ti costruisci questo team con persone che hanno la tua stessa sensibilità, la tua stessa visione, la tua stessa passione, è come combattere in tanti invece che da solo.